Allora se sta una cosa, pensiamo, vai, usiamo, vai, vai un nuovo tipo brasiliano. Dai, dimmi cosa ti manca, sei l'amore, sei fatta bene, sei fatta che cosa non vuoi, se ti ha portato via l'uomo, una madre qualmeno ce l'hai. Allora io vorrei presentarvi questa meravigliosa famiglia Alli castieri Bruno Ferri Giulieri Alle percussioni Daniele Baghi Alla petarra la nostra nascotta per la parte ritmica Alessandro Sicone Allora mi dà la mitologia E' un'unico da grande il nuovo e la mia casa Alla petarra la nostra nascotta per la parte ritmica Alessandro Medica Un nostro rival Un nostro momento Luchiamo in calcio Al passo eléctrico David Medina e la piazzolta dovrei dire al tempo che non dovrebbero andare a fare questi intervezzi avresti gli stassi e si comporta il nuovo nome Ferenino Di Cuzzo Senta, io ho fatto il tempo che non dovrebbe essere pronunciato solo Guano e noto l'avvento Grazie Alla batteria, il co-ideatore, il co-pruntore, il nostro co si chiede soltare la batteria Fabio Zippone Il direttore di orchestra finalmente può involversi da Zippone Viva 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo faremo come l'altro tempo, questi sono e resteranno per sempre. Vai! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.